E grazie di occuparti di Pete. Ah, è come un fratello piccolo per me. E l'officina? L'officina va bene, va bene. Sì. Com'è la città? È diversa da come mi aspettavo, ma... Non è qui. Sei ancora allergica a Mount Kisco? Senti, c'è una cosa di cui Dino ti vorrebbe parlare. Ah sì, davvero? Dopo la corsa, però, non ti voglio distrarre. Allora dovevi restare a Manhattan. Sei bellissima.